5 minuti, in 300 secondi l'altalena ha portato in cielo il Taranto facendo sprofondare il Brigisi. Al Fanuzzi torna il derby iodico-adriatico in Serie D dopo 17 anni, con grande colpo d'occhio da parte di entrambe le tifoserie. Pronti via e i biancazzurri passano subito in vantaggio. Angolo di laboragine che serve Sain, palla dentro per Cacace che si vede respingere la prima conclusione da Maraglino, ma non fallisce il secondo tentativo, con la difesa tarantina colpevolmente immobile. La risposta del Taranto arriva con l'incursione in area di Fumai, lo scarico per Faccini che da posizione angolata non trova lo specchio di porta. La gara viaggia su buoni ritmi ed il Brindisi va vicino al 2-0 con l'assistenza di Villa per Albano, che a centro area non riesce a correggere in rete. L'argentino prova allora a fare da sé, ma dopo una buona preparazione angola troppo il suo destro. La squadra di Francioso sciupa anche ad inizio ripresa e rischia di subire l'1-1. Faccini, da ottima posizione, calcia debolmente addosso ad Agostini. La formazione adriatica è anche sfortunata, quando Albano, lanciato in profondità da laboragine, si incune in area e col sinistro colpisce la base del palo, col pallone che arriva poi tra le braccia di Maraglino. Il Brindisi resta poi in 10 per il secondo giallo mostrato dal direttore di gara a Frascello e al 37esimo il Taranto riesce a trovare il guizzo dell'1-1. Palla sulla tre quarti a Fumai, che si gira, osserva il portiere e disegna un gran destro che va a gonfiare la rete. Il finale è denso di emozioni. Prima il Brindisi chiede un rigore per fallo di mano in area, poi arriva la doccia gelida per il Fanuzzi. Cross di Fumai, che Agostini respinge corto, Mignogna si coordina ed in girata trova il 2-1 con il classico gol dell'ex. Finisce con il rosso e blu in festa, bravi a sfruttare gli errori, tanto sottoporta che in difesa, del Brindisi. Il morale dei rosso-blu è in rialzo, mentre per gli adriatici il momento è sempre più nero.